Classe 1965, medico-chirurgo, specialista in urologia e andrologia. Benvenuto, benvenuto al dottor Stefano Tazzioli, urologo. Grazie dottore per essere in nostra compagnia. Parliamo di prevenzione andrologica e urologica. Quando è necessario iniziarla e che cosa fare con una domanda da tre, se ce lo può spiegare. Va bene, è una piccola premessa perché noi maschietti siamo abbastanza diversi, mentre le ragazze fin dalla prima mestruazione sono abituate ad andare dal ginecologo, noi maschi siamo un po' reluttanti in questo. Un problema culturale forse. Forse sì, anche un problema culturale. Poi cosa c'è stato? C'è stato il grosso discorso della leva militare, perché finché c'era la leva militare, diciamo che la prima visita... Quella a 18 anni la facevano. Oggigiorno non c'è nemmeno più quella, ormai da 20 anni buoni, per cui arrivano sempre più tardi a fare il controllo e prevenzione. Questo invece è un problema perché va divulgato il più possibile, diciamo fin, non dico dalla teneretà, perché il pediatra li segue, però diciamo da post la pubertà sarebbe utile farsi vedere da loro. C'è una forchetta di tempo, sembra di intuire, diciamo tra la fine del rapporto col pediatra, quindi l'inizio della pubertà, e poi il rapporto con l'urologo e l'andrologo, che è una forchetta di tempo, un po' basta. Esatto, più che altro non esiste prevenzione, cioè il maschietto viene da noi, il ragazzo, quando c'ha un problema, non c'ha una prevenzione e un'idea di venire a fare una visita di controllo. Allora, ci dica lei dottore, a che età dobbiamo iniziare? Secondo me, subito, quando veniamo lasciati dal pediatra, quindi post puberale, 14 anni, dai 14 ai 16 anni, un primo controllo, che poi è banale, perché basta a volte vedere anche così, a occhio ludo, anche da distante, un ragazzo, i genitali, un discorso di una fimosi, un discorso di un varicocele. Che cos'è la fimosi, mi scusi? È una problematica di restringimento del prepuzio, che è la pelle che ricopre il glande, che impedisce lo scivolamento del prepuzio sul glande. E quindi, in questo caso, forse bisognerebbe fare anche un pochino di educazione, magari ai genitori, perché un 14enne, con tutta la buona volontà e la maturità che gli si può riconoscere, insomma, forse c'ha bisogno che i genitori lo portino dall'urologo. Giusto così, certo, certo. E quindi c'ha bisogno, insomma, che i genitori si sveglino? Io sono stato nelle scuole, ad esempio, a fare un pochino di, così, di prevenzione, di sensibilizzazione a questo proposito. Sì, sì, diciamo che negli ultimi periodi, negli ultimi anni, è cambiata, è la situazione rispetto a 20 anni fa. Però, nonostante questo, c'è ancora un mondo sommerso, importante, insomma, noi vediamo la punta dell'iceberg, ma ci sono tantissime persone che non vengono dall'urologo, fino a che non hanno 50 anni, anche, o di più. In 20 secondi, cosa si rischia, andando più in là nel tempo, a presentarsi dall'urologo? Allora, c'è una problematica importantissima che è, ad esempio, il tumore del testicolo, che ha un picco di incidenza a 20 anni, per cui, se noi non facciamo prevenzione, possiamo non riconoscerla e non curarla adeguatamente. Allora, dottore, uso gli ultimi secondi per andare verso la prossima domanda, che, appunto, riguarda il cosiddetto PSA, poi lei ci spiegherà che cos'è, ma, insomma, lo sentiamo spesso citare e spaventa. PSA e patologie prostatiche, che legame hanno e, più in generale, quali sono i sintomi più frequenti di un problema prostatico? Domanda da due. Bene, allora, il PSA che cos'è, intanto? È una glicoproteina prodotta dalla prostata e la produce solo la prostata ed è, diciamo, un campanello d'allarme di qualcosa che non funziona nella prostata. Quindi si dosa nel sangue, dà un banale esame del sangue e ha un range di normalità che va da 0 a 4, ora poi, ultimamente, è stato anche diminuito a 3. E quando c'è un aumento di questo valore, serve poi il compito dell'urologo è stabilire il motivo per cui si è alzato. Non è un marcatore tumorale, attenzione. Ah, questo è interessante, cioè il fatto che aumenti il valore del PSA non è detto... Esatto, non è detto che ci sia un tumor alla prostata. Ma questo è interessante. Questo è interessante, sì. Perché molti... Da cosa potrebbe dipendere? Ad esempio, da una prostatite, da un'infiammazione alla prostata, anzi, spesso è così. Quello che è importante sul PSA, che poi, appunto, lo dobbiamo valutare noi, non è tanto il valore assoluto del PSA, quanto l'andamento che ha nel tempo. Perché, ad esempio, il tumore alla prostata cresce costantemente il PSA, a prescindere dalle terapie che uno fa. La prostatite, invece, fa avere un andamento, così, a sali e scendi del valore. Allora, torniamo alla nostra domanda. Abbiamo detto il rapporto tra PSA e patologie prostatiche e i sintomi più frequenti di un problema prostatico. Quando c'è un aumento del PSA, appunto, di sicuro, sotto c'è una patologia prostatica. Poi sta a noi capire quale. I sintomi sono, allora, per quanto riguarda il tumore della prostata, spesso è asintomatico. Quindi c'è soltanto l'aumento del PSA e poi con la visita nostra, clinica, si capisce che ci può essere un dubbio e quindi poi si va a fare un'indagine diagnostica specifica. La prostatite, invece, dà una sintomatologia, un corollario di sintomi ben precisi che passano dall'urgenza menzionale ai dolori sovrapubici, testicolari, allo stimolo, appunto, frequente. Quindi possono essere molti sintomi a quel punto, spetta allo specialista, fare, diciamo, indagini ulteriori per effettuare, diciamo, la diagnosi più efficace. Perfetto. Allora, dottore, ipertrofia prostatica benigna, anche di questa sentiamo molto parlare. Quali sono le terapie mediche e quelle chirurgiche più in voga, diciamo così, per risolvere il problema? Domanda da tre. Bene. Allora, l'ipertrofia prostatica benigna banalmente è l'ingrossamento della prostata, no? Ecco. Che noi uomini subiamo per forza di cose. Ma sempre? Tutti? Allora, l'ingrossamento della prostata avviene praticamente in tutto. Ecco. Poi, diciamo, un uomo su tre da intorno ai 50 anni tende ad ingrossarsi la prostata. Poi bisogna vedere se questo ingrossamento dà disturbi oppure no, dà sintomi oppure no, perché è fisiologico che ci sia un aumento dell'ingrossamento della prostata, però non è altrettanto così che dia problemi sintomatici. E quindi? E quindi... Questa ipertrofia come la gestiamo? Da un punto di vista, diciamo, medico e chirurgico? Inizialmente, ovviamente sempre da un punto di vista medico, esistono dei farmaci, c'è una categoria, si chiamano alfalitici, che servono appunto a facilitare lo svuotamento della vescica e a evitare appunto un ristagno, perché il problema qual è? Che la prostata, ora non so se tutti i nostri spettatori lo sanno, ma è una ghiandola che sta sotto la vescica e all'interno della prostata ci passa il primo canale dell'uretra. Quindi quando c'è un ingrossamento della prostata c'è uno stringimento di questo canale, quindi la vescica ha difficoltà a svuotarsi. E quindi abbiamo una serie di farmaci che agiscono proprio sullo svuotamento, su quel punto di vista. E questo già può essere un aiuto. E questo può essere un aiuto. Poi ci sono altri farmaci che contengono il volume della prostata e l'associazione dell'alfalitico che fa svuotare la vescica e quest'altro farmaco che contiene il volume della prostata, che si chiama dutasteride, fa sì che la terapia medica sia il massimo possibile, ottimale e efficace. Se questo non basta... Se questo non basta, si passa alla terapia chirurgica. Che oggigiorno, una volta la terapia chirurgica per l'ipertrofia prostatica era abbastanza impattante, devastante, perché veniva fatta a cielo aperto, chirurgico, quindi con un taglio sotto ombelico pubblico, con ricovero in ospedale anche per una settimana, con sanguinamenti importanti e via dicendo. Oggigiorno era considerato un interventore. Oggigiorno con le tecniche che abbiamo, in tutte le cose, ma in medicina e in neurologia in particolare la tecnologia fa passi da giganti e ogni poco esce delle tecniche nuove. Oggigiorno ci sono tantissime tecniche, osiddette mini-invasive, che permettono lo stesso l'asportazione della parte ostruente e della prostata senza tutti questi disturbi e queste complicazioni dell'intervento chirurgico classico. E la più voga di queste tecniche? Il gold standard è un acronimo, si chiama TURP, che sarebbe Transurretral Resection, che è rimasto... Praticamente si tratta di, per via endoscopica, di entrare ovviamente con un'aestesia che in genere è epidurale, spinale, quindi parziale, si entra dall'uretra, dal via naturale e si arriva fino alla prostata e si resica il tessuto che ostruisce la prostata. In alternativa a questo, oggigiorno c'è un sacco di tecniche con vari tipi di laser che sono ancora meno invasivi e che danno lo stesso tipo di risultato. Quindi insomma, diciamo, sotto questo fronte sia la medicina sia la chirurgia ci danno buone prospettive di guarigione. Possiamo stare tranquilli. Benissimo. Allora, quarta domanda, dottore. Calcolosi urinaria. Come affrontare il problema? Domanda da due. Allora, la calcolosi, anche questa, è una patologia frequentissima, specialmente ora, nel periodo estivo, perché col caldo si suda di più, si concentrano più le urine ed è facile formare calcoli. Infatti io consiglio sempre a chi soffre di queste patologie di fare sempre un'ecografia subito dopo il periodo estivo, proprio perché i calcoli è più facile che si formino in questa stagione che in altre. Come si affrontano? Anche qui, diciamo, piccoli calcoli, banalmente con terapia medica litolitica e quindi il bere, che è fondamentale, bere poco e spesso, ma bere un bicchiere d'acqua ogni ora. Bere poco e spesso. Noi si dice un bicchiere d'acqua ogni ora. Un bicchiere d'acqua ogni ora. Questo è interessante perché tante volte i medici più in generale ci dicono dovete bere, anche le persone anziane, dovete bere, dovete sforzarvi di bere. Però è interessante che l'urologo ci dica dovete bere poco e spesso, un bicchiere ogni ora. Questo è fondamentale. Ricordatevelo. Per la calcolosi, sto parlando. Questo per i maschietti? Anche per le femminucce. La calcolosi è una patologia. Uomini e donne, un bicchiere di acqua l'ora per contenere il problema della calcolosi. Esatto. E poi esistono degli integratori, fondamentalmente, che però hanno il potere di non far aggregare i sedimenti che formano il calcolo. E quindi chi soffre di calcolosi, bere e questo apporto di questi integratori favoriscono l'eliminazione, la classica renella, no? Che si sente dire anche comunemente tra le persone. Sì, sì, sì. È un problema... Problema molto, molto diffuso. Anche diffuso. Molto diffuso. Se i calcoli però sono di dimensioni maggiori, bisogna fare anche lì altri tipi di procedure. Che si passa, si va dalla litotrissia extracorporea, che non è altro il classico bombardamento dei calcoli. Certo. Oppure se il calcolo è nell'uretere, c'è il tubicino che collega il rene alla vescica e quindi non è possibile puntarlo con la litotrissia, anche in questo caso si fanno degli interventi endoscopici. Si entra con uno strumento che si chiama uretero-renoscopio e con la fibra laser si frammenta il calcolo e si espellono i frammenti con lavaggi, insomma con soluzioni di lavaggio. C'è mai il rischio o la necessità di andare oltre, nel senso di invadere in maniera più importante? Purtroppo sì. Quando ci sono calcoli di grosse dimensioni, si parla di superiore a due centimetri e mezzo, tre centimetri, bisogna fare anche dei veri e propri interventi. Si chiama percutanea, percutanea, c'è un accesso chirurgico a questo punto dal fianco, si entra all'interno del rene e da lì con degli strumenti appositi si frantuma e si rompe in calcolo. A volte c'è degli approcci combinati, sia per via percutanea sia per via endoscopica. Sono i casi quelli più gravi, con calcoli a stampo molto grandi. Ancora una domanda, qui si entra un pochino negli argomenti che spaventano un po' di più, ma bisogna avere il coraggio di parlarne. Tumore della prostata, come si cura? Domanda da tre. Allora, il tumore della prostata, anche qui passi da giganti nel campo dell'urologia. Il tumore della prostata innanzitutto va detto una cosa, perché la gente ovviamente quando senti la parola tumore pensa alla vita, pensa a dire qui ci va di mezzo alla vita. Si perde la vita? Si perde la vita. Non è così? Non è così, il tumore della prostata si cura e si risolve tranquillamente. L'importante, come in tutte le cose, è la prevenzione, quindi prendere per tempo. Il fattore tempo appare sempre determinante in medicina? Esatto, è proprio così, è proprio così. E quindi questo, quindi la prevenzione col PSA, la visita urologica e gli esami che poi l'urologo prescrive è importante. Il trattamento del tumore della prostata fondamentalmente ha tre tipi di terapie, una chirurgica, una radioterapica e una medica ormonale. Poi in base all'età del paziente, alle condizioni cliniche viene scelta o l'una o l'altra. Nel campo chirurgico, io da urologo parlo del mio settore, anche lì è stato fatto passi da giganti perché oggigiorno si approccia il tumore della prostata togliendo la prostata con la chirurgia robotica che è proprio mirata, indicata per questo tipo di patologia, per l'asportazione della ghiandola prostatica. Quindi con la chirurgia robotica viene invasiva, con piccoli diciamo buchini sull'addome, con questi bracci comandati dal chirurgo urologo e dalla console viene asportata la ghiandola prostatica e con un'adegenza minima di pochi giorni il paziente risolve il problema e viene poi dimessa e torna a casa. Insomma, quindi anche da questo punto di vista qui poi che c'entra? Il tumore è una patologia che ha un suo follow up, che va sempre seguita con i controlli, che ha un seguito. Non è che uno tolta la prostata e basta, non faccia più niente. Non ti attenti via. Però anche questo voglio tranquillizzare le persone perché è una patologia che si cura molto bene oggigiorno e con risultati ottimi, insomma, con la guarigione completa, si avviene con la guarigione completa. Questo problema del tumore alla prostata, che poi mi parli di tumore nel senso, in questo caso maligno, quindi cancro. Certo, cancro della prostata. Parliamo pane pane e vino al vino. Il cancro alla prostata, dottore, a che età può venire e in qualche modo se c'è uno stile di vita che può prevenirlo? Che questa è una bella domanda perché forse per la prevenzione che noi facciamo, ora oggigiorno si vedono cancri della prostata in persone anche in età abbastanza giovani, diciamo, tipo, io ho visto dei cancri della prostata anche a quarantenni. Ecco, quindi molto giovani. Molto giovani. Noi diciamo la prevenzione per il tumore della prostata è iniziarla intorno a 45-50 anni, con il primo PSA. Però se c'è una familiarità, perché come in tutte le patologie neoplastiche anche il tumore della prostata è importante la familiarità, diciamo, di iniziare la prevenzione anche prima. Tipo? Quindi, tipo, 40 anni. Guarda, da 40 anni bisogna cominciare a far suonare un po' di campagna. Se c'è familiarità. Altrimenti noi si dice intorno ai 45-50 anni il primo PSA, la prima visita urologica per la prevenzione della prostata e non per, come si diceva all'inizio, per altre patologie. Allora, io lo abbiamo un pochino accennato sul fronte della prevenzione, ma vorrei entrare un po' più nel merito con questa domanda. Quanto conta lo stile di vita per prevenire le patologie di cui abbiamo parlato fino adesso? Dottor Tazioli, domanda da due. Allora, lo stile di vita conta ovviamente, come in tutte le cose, come in medicina in tutte le cose, in particolar modo per quanto riguarda la prostata sui processi infiammatori prostatici, perché le famose prostatiti, la grande fetta di prostatiti batteriche che quindi spesso sono dovute a germi che possono entrare all'interno dell'apparato urinario attraverso l'uretra e quindi sono spesso a trasmissione sessuale o a, diciamo, a presa di questi batteri per altre vie naturali o per cattivi gene. Questo anche addirittura cattiva igiene può portare? Sì, alcuni batteri. A volte c'è la contaminazione, ad esempio, di batteri intestinali che passano nelle vie urinarie. E questo, quindi stare attenti anche a questa, all'igiene, alla frequentazione per dire di bagni pubblici, stare attenti a toccare dove, appunto, per non contaminarsi. Poi c'è tutto un discorso che riguarda l'alimentazione, perché tutto ciò che infiamma, quindi i cibi piccanti, la caffeina, la teina, gli alcolici, tutto ciò che i cosiddetti, che ne so, una busa mangia tanta cioccolata, mangia tante noccioline, frutta secca, sono tutte queste componenti che possono provocare un'infiammazione, un'infiammazione generale che comporta attenzione a queste cose qua. Poi c'è tutto un discorso sulla postura. La prostata l'abbiamo in una posizione noi maschietti particolare e quindi nella zona sopra il perineo, la zona del perineo è quella zona tra testicole e ano, per cui tutto ciò che va a sollecitare quella zona lì può infiammare la prostata. Ad esempio i ciclisti, quasi tutti hanno le prostatite, chi viaggia tanto, malattia anche professionale, tassisti. Chi viaggia tanto perché lei dice in auto, anche stare seduti in auto questo può... Bravo, perché tutto ciò che sollecita, quindi bisogna stare attenti, avere accortezze su come posizionarsi, per dire anche alla guida, perché tassisti, tutti i commercianti. Anche l'equitazione? Anche l'equitazione. Quindi tutto ciò che grava su quella zona va un po' misurato. Esatto, non va sollecitato il perineo, bisogna appoggiarsi più sui glutei, più esternamente diciamo, allora evita questo la sollecitazione e l'infiammazione della prostata. Questo diciamo indipendentemente dall'età della persona? Certo. Quindi sempre in un'ottica di prevenzione? Anche la seduta, se uno sta seduto molto in punta sulla sedia schiacciando questa zona, alla lunga può provocare un'infiammazione della ghiandola prostatica. Le nostre registrazioni, diciamo, sono di mezz'ora l'una, quindi insomma ce la... Ce la facciamo, per evitarlo. Molto bene. Allora, dottore, andiamo alla settima domanda. Disfunzione erettile. Come si risolve questo problema? Domanda da tre. Anche questo è un campo molto importante, proprio con i nomi a schietti, se ci andiamo a colpire sulla nostra virilità e subito siamo in crisi, entriamo in crisi. È come dire, l'ego? È il nostro ego. È il nostro ego. È il nostro ego. E questo ci porta anche a nascondere, perché anche questo dal punto di vista andrologico c'è una grande parte sommersa di persone che non vanno e aspettano, hanno paura, perché su questo settore qui... E niente, la disfunzione erettile è una patologia, più che patologia, è proprio una manifestazione clinica di qualche altra patologia che uno potrebbe avere. Ah, questo è interessante. Addirittura ci sono degli studi importanti che hanno fatto sì, che hanno fatto vedere che la disfunzione erettile può essere un primo campanello di allarme di un problema cardiovascolare. Questo perché? Perché le arterie cavernose, che sono le arterie che portano il sangue ai corpi cavernosi, che sono i tessuti deputati per avere l'erezione, sono molto fini, sono tipo degli spaghetti. E quindi un primo, che ne so, deposito di colesterolo all'interno dei vasi sanguigni, una prima alterazione strutturale dell'endotelio, cioè del tessuto del vaso sanguigno, può portare come primo campanello di allarme a un problema di disfunzione erettile. E quindi uno può a questo punto iniziare anche una prevenzione e poi su ampio scala sul fatto delle malattie cardiovascolari. Da un punto di vista, anche in questo caso le chiedo, sull'alimentazione, piuttosto che sui alcolici, queste cose. Ma c'è uno stile di vita che può favorire questo problema e quindi bisogna evitarlo oppure no? La qualità di vita, lo stile di vita sano. Qualità di vita? Quindi evitare accumulo di colesterolo, di trigliceridi, quindi fare attività sportiva, il sovrappeso, l'obesità, sono tutti fattori che possono dare problemi di accumulo di lipidi e quindi di disfunzione erettile. A che età può arrivare questo problema? Allora, se si parla del problema vascolare che stavo introducendo ora, in genere si parla di età un po' più avanzata, a meno che uno non abbia una patologia di accumulo di grassi nel sangue basale importante dopo i 50 anni, però c'è una serie di disfunzioni erettili di età giovanile. Di che tipo? Ad esempio, una cosa fondamentale nei giovani che hanno tanti è il problema dell'eiaculazione precoce, ad esempio, perché per ansia di prestazione, perché il mondo dei mass media ti fa vedere che il maschio deve essere virile, super uomo e non deve avere di questi problemi, le partner spesso mettono in crisi e creano ansia di apprestazione ai ragazzi, insomma, perché è una guerra, è una guerra. Come dici, né in guerra né in amore, tutto è concesso, anche qua mi pare sia in questa zona. E poi queste patologie, appunto, tipo la fimosi, come avevo inizialmente detto, che è classica dei giovani e che porta difficoltà, appunto, al dolore durante l'elezione. Tutto questo mondo come si risolve? Le chiedo un massimo 30 secondi. Come si risolve? Da un punto di vista medico o chirurgico? Ci sono entrambe le risoluzioni. Ci sono una serie di farmaci dal punto di vista medico. prima c'è anche un tipo di... si deve lavorare sulla qualità di vita, poi c'è una terapia medica e poi, in ultima razio, c'è anche gli interventi chirurgici, si arriva addirittura al posizionamento delle protesi peniene. Questo è un grande argomento, magari se ne parlerà un'altra volta. Ne parleremo in un'altra intervista. Allora, un'ultima domanda per lei, dottore. Cosa ci riserva il futuro sul fronte delle tecniche diagnostiche e chirurgiche di ultima generazione per quanto concerne l'urologia e l'andrologia? Domanda da uno. Allora, come dicevo, il settore dell'urologico e andrologico è in netto divenire, cambia in continuamento, dal giro di un anno all'altro si hanno delle novità. Nel campo, ad esempio, andrologico, il discorso chirurgico, come dicevo, del posizionamento delle protesi peniene. Ci sono protesi peniene sempre più sofisticate, sempre più, diciamo, che mimano la situazione fisiologica normale rispetto alle vecchie procedure chirurgiche che c'erano una volta. Ci sono anche tecniche e farmaci nuovi per quanto riguarda. C'è una patologia importante che dà problemi sulla funzionalità erettile che si chiama malattia di leperoni, che è una curvatura del pene dovuta a delle placche che si formano e qui c'è un mondo nuovo medico di nuovi farmaci per avere una risoluzione di questo tipo di problema, ad esempio. La inviterò nuovamente per approfondire il tema. Grazie al dottor Stefano Tazioli, urologo, grazie a voi che ci avete seguito. Conto alla rovescia, torna alla prossima puntata. Arrivederci. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.